E siamo arrivati giù, vedete, prima eravamo lassù, siamo scesi lungo la discesa, di là ta 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 ta, e di questo arrivavo, poi io sono andata di là, c'era un po' di sabbia col mare, e poi sono andata laggiù su quegli scogli là, che praticamente per arrivarci è tutto così, solo che ci sono delle pozze anche più profonde, però, mentre ero laggiù in fondo, che ora vedo, mi sembra che dietro laggiù in fondo, il fondo sta anche passando la barca a vela, ora voi non lo vedete da video, mi sembra, perché poi qua non c'è nessuno, cioè è stato naturalmente solo, è il tedesco, col bimbo, non so, sarà volato via tipo Superman o qualcosa del genere, no, ma mi so che è dall'altra parte. Comunque io stavo andando là, su quegli scogli là, che da qua non si vedono, ma c'è tutti degli uccelli strani, grandi, belli, e ad un certo punto solo ho visto il mare, laggiù in fondo, che stava entrando sugli scogli, e l'acqua che saliva, 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 io non so se c'è l'altra marea qua, non credo, anche se...